Grazie, condivido assolutamente l'importanza della proposta di riforma costituzionale presentata oggi dal Consiglio dei Ministri, andrà in Parlamento. Per quanto mi riguarda una battaglia storica, ancora ai tempi dei governi Berlusconi si insisteva per una riforma che andasse nella direzione della stabilità e della governabilità del nostro Paese, quindi è molto positivo il fatto che sia anche stato rispettato l'impegno preso con gli elettori, perché un governo politico è forte perché rispetta il mandato che ha avuto dagli elettori. Nel nostro programma c'erano alcune questioni fondamentali e questa è una delle priorità, la riforma costituzionale nella direzione di offrire più stabilità, meno ribaltoni, anzi nessuno, e quindi questo significa che il nostro Paese può guardare con più ottimismo al futuro e anche, lo dico da Ministro degli Ester, è una questione di credibilità internazionale. Se passerà questa riforma, come noi siamo convinti accada, avranno in tutti i consensi internazionali da discutere per cinque anni con gli stessi Ministri italiani. Se c'è un elemento di debolezza, c'è stato un elemento di debolezza nei nostri interlocutori, vedere cambiare in continuazione il loro interlocutore. È vero che c'è la continuità amministrativa, ma sapete meglio di me quanto è importante la conoscenza e la relazione personale. Questo rafforzerà anche sul palcoscenico internazionale, anche sui mercati, la posizione del nostro Paese. Sono assolutamente soddisfatto e condivido l'impostazione di non toccare alcun potere del Capo dello Stato, che rappresenta sempre e comunque un elemento di garanzia. Per quanto riguarda il Decreto Mattei, è un'altra scelta che considero di grande importanza perché risponde alla questione migrazione, alla questione stabilità del continente africano. Perché l'immigrazione non è un problema che si può risolvere soltanto intervenendo alla fine del percorso. Bisogna intervenire a monte. Il Decreto Mattei punta anche a risolvere questo problema con una visione dell'Africa che noi guardiamo non con gli occhiali dei neocolonizzatori, ma con gli occhiali degli amici e vogliamo anche lavorare con il continente africano per elaborare un progetto che possa essere multevolmente portatore di benefici perché i nostri interlocutori aspettano una presenza dell'Italia. E ho suggerito, visto che me ne sono occupato sempre quando ero commissario europeo e quando ero Presidente del Parlamento europeo, della necessità di questo piano, avevo parlato di un piano Marshall europeo, io credo che l'Italia possa essere veramente il portabandiera di un progetto europeo partendo dal piano nazionale, potremmo diventare protagonisti di una azione più forte da parte dell'Europa con la buona prate e con il buon progetto del piano Mattei. Oggi abbiamo approvato un decreto che contiene gli elementi giuridici per creare la struttura che deve elaborare il piano Mattei, su quale stiamo già lavorando da tempo. È composto in tutto di sei articoli, il primo riguarda i partecipanti alla cabina di regia, che poi è chiamata a scrivere il testo del piano, fanno parte tutti i ministri, in più ci sono il Vice Ministro degli Esti, il Vice Ministro dell'Industria e del Made in Italy. Il piano ha una durata di quattro anni e può essere aggiornato anche prima della scadenza. Ci sono coinvolte non soltanto i ministeri ma anche imprese private o, pensiamo al Presidente del Consiglio, la Conferenza delle Regioni, Provincie Autonome, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e Sviluppo, l'ISCE che è l'Agenzia per la Promozione all'Estero, le Società di Cassa Depositi e Presse, la Società Sace, la Società Simes, cioè tutte quelle società che lavorano per sostenere la presenza e la internazionalizzazione delle nostre imprese. La cabina, come diceva il Presidente, è convocata dal Presidente del Consiglio o su delega è presieduta dal Vice Presidente, che è il Ministro degli Esti, il Vice Presidente del Consiglio, non ci sono per la partecipazione alla cabina di regia compensi, gettoni di presenza, rimborsi o spese e altri emolumenti. Il segretario della cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione. La cabina di regia dovrà elaborare in collaborazione anche con gli Stati del continente africano il testo che si potrà valere di una struttura di missione, cioè che è un'organizzazione che svolge le attività, assicura il supporto al Presidente del Consiglio per l'esercizio delle funzioni, di indirizzo, assicura il supporto al Presidente, al Vice Presidente della cabina di regia. Nella loro attività cura il segretariato della cabina di regia e predispone la relazione annuale al Parlamento, di cui all'articolo 5. Ecco, c'è anche il coinvolgimento del Parlamento perché è giusto che entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del piano, previ approvazione da parte della cabina di regia. La relazione indica inoltre le misure volte a migliorare l'attuazione del piano Matteo ed accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti. Quindi saranno funzionari pubblici in generale a gestire questa struttura di missione che sarà guidata da un diplomatico. Quindi alla struttura è assegnato un condigente di esperti che non avranno compenso, mentre in tutte le spese complessive saranno di circa 500 mila euro, questo per i viaggi, per gli spostamenti eventuali dei funzionari. Ecco, questo è più o meno il contenuto del decreto che verrà presto presentato alla Commissione appena sarà controfirmato dal Presidente della Repubblica e entra in vigore e viene presentata alle Camere per essere poi ratificato. Quindi io credo che sia un passo politicamente importante anche per rafforzare il ruolo dell'Italia nel continente africano, un ruolo politico c'è già stata un'inversione di rotta in un momento di grande tensione internazionale di aumento dei flussi migratori. Credo che questo piano possa rappresentare per l'Italia un punto di vanto che permetta di farci essere uno dei principali interlocutori dei Paesi africani. Sì, un passaggio importante quello di oggi perché rafforzare il Governo a livello centrale e nel contempo applicare quello che la Costituzione già oggi prevede in termini di autonomia significa dare più peso, più senso al voto dei cittadini che se votano una squadra di un certo tipo, con un programma di un certo tipo poi non possono vedere ribaltoni, governi tecnici o cambi di maggioranze. Quindi un passaggio assolutamente importante così come sul tema della disabilità, la semplificazione, la sburocratizzazione significa per migliaia di famiglie perdere meno meno tempo, girare meno uffici e avere anche meno problemi e meno frustrazioni. perché dover ribadire magari viennalmente la propria disabilità per delle disabilità che ahimè ad oggi non vedono possibilità di cura o di miglioramenti è assolutamente inutile, iniquo, ingiusto, immorale, frustrante, antieconomico peraltro anche per la pubblica amministrazione che magari si può dedicare ad altro. Una nota di 30 secondi al volo a qualche collega che chiede queste informazioni, mi sono fatto dare gli aggiornamenti reali sul tema infrastrutture e trasporti e viabilità in Toscana e zone limitrofe, visto che al momento ci sono ad esempio più di 48 mila utenti senza energia elettrica, ci sono 450 tecnici Enel che stanno lavorando. Al momento l'alta velocità è rallentata fra Milano e Roma per gli ovvi problemi a Firenze, sono sospese le due linee di RFI Bologna-Prato e Pistoia-Prato. A livello di ANAS, quindi di sistema autostradale, sono interrotte alcune tratti della statale della Cise e della Tosco-Romagnoli in Toscana, Val Daveto e Aurelia in Liguria, San Michele al Tagliamento in Veneto e Val Trebbia in Emilia-Romagna. Sono chiusi in Lombardia per neve, Stelvio, Spluga, Mortirolo e San Marco. Su strade, autostrade, ferrovie, siamo in contatto, come diceva Giorgia, con gli amministratori locali per il ripristino quanto più veloce e immediato delle linee di trasporto e di comunicazione rinterrotte. Sono appena usciti attraverso il valico di Rafa sette cittadini italiani anche con passaporto palestinesi, con i loro familiari in tutto sono dieci persone, tra questo gruppo ci sono anche due donne incinte, una al nono mese, che verrà accompagnata in ambulanza della mezzaluna rossa, al Cairo e sono tutti in viaggio verso il Cairo, sono tutti in buona salute, quindi è una buona notizia per quanto riguarda la più difficile situazione nella striscia di cazzo. Grazie Antonio, siamo molto molto contenti di questa notizia. La parola al Ministro Casellati. Grazie. Allora il disegno di legge...